Un incidente a Cagliarin via Grazia Deledda, un'auto guidata da un giovane, ha perso il controllo mentre arrivava dalla via Sonnino ed è finita contro l'ingresso di un locale, di una piadineria. Nessun danno alle persone ma ad avere la peggio una fioriera e una centralina elettrica andate completamente distrutte e qualche danno leggero anche alla porta d'ingresso del locale. Sul terreno ci sono ancora i segni dell'incidente come uno dei cerchioni dell'auto. Nessun ferito quindi, solo tanta paura e un grande spavento in pieno centro a Cagliari per un incidente che, lo ripetiamo, fortunatamente ha visto andare in frantumi solamente qualche oggetto. Grazie